La Bifana è passata e quasi non ce ne siamo accorti, sul classata per consensi da due altre feste, Natale e Halloween. Eppure ci sarebbero seri motivi per rileggere in chiave moderna quell'antico mito proiettato sostanzialmente su due figure, la vecchietta che vola e la vecchietta che sta davanti al fuoco a stiruzzare i propri ferri. La vecchietta che vola, il primo mito nasce, e non casualmente, nelle valli trentine. È una delle tante streghe bruciate da una inquisizione spietata che produsse da quelle parti nel Trentino stragi di donne contadine accusate di fare il sabba, cioè di partecipare a Norgia dove dovevano servire il diavolo e per farlo dovevano volare via con una scopa. L'altra Bifana, quella accanto al cammino, è più un mito del nostro appennino. Ambe due le Bifane portano comunque doni umili, frutta secca e dolci. Ma le due narrazioni potrebbero essere lette in chiave moderna. La donna della scopa, la strega, dovrebbe ricordarci quanto oggi la donna continua a essere violentata e brutalizzata ovunque. In questo caso l'inquisitore è l'uomo maschio del terzo millennio. E la nonna davanti al fuoco evoca invece il fatto che i nonni sono scompassi dalle nostre famiglie e questo produce un serio deficit per la crescita affettiva e morale dei nostri figli.